barbari in cerca di bottino e invasati al seguito di un uomo costantino noi comprendiamo la rabbia del popolo e condividiamo la loro rivolta che non credo in null'altro se non in se stesso essi pretenderebbero di portare a noi un mondo nuovo i miei uomini aspettano soltanto un tuo ordine per sbarrare le porte di loro